Il grande fratello si prepara a sorprendere ancora una volta i suoi telespettatori con nuove dinamiche e concorrenti. Tra le ultime indiscrezioni sembra che Salvatore Monaco, ex fidanzato di Shaila Gatta, potrebbe entrare nella casa più spiata d'Italia. La relazione tra Shaila e Javier Martinez all'interno della casa potrebbe subire una svolta con l'ingresso di Monaco, di cui la stessa gatta ha parlato positivamente. Le voci di corridoio parlano di un possibile accordo tra i due ex fidanzati per il suo ingresso nel reality show. Ma le sorprese non finiscono qui, poiché Alfonso Signorini sembra essere interessato a portare due volti noti di Temptation Island nel grande fratello. Federica e Stefano, la fidanzata e il tentatore del programma di Maria De Filippi, potrebbero essere i prossimi concorrenti del reality. Il destino della coppia è ancora incerto, ma le anticipazioni sembrano indicare un avvicinamento tra Federica e Stefano. Le novità non mancano e il pubblico non vede l'ora, l'ericolta fortera, di scoprire come si evolveranno le dinamiche all'interno della casa. Il grande fratello si conferma ancora una volta come un programma capace di tenere alta l'attenzione degli spettatori, con colpi di scena e nuovi ingressi che promettono di agitare le acque.